Ciao a tutti, quest'anno abbiamo deciso di realizzare una serie di contributi video sulla sostenibilità, video brevi e ciascuno focalizzato su uno specifico argomento. Abbiamo pensato di raccogliere in una playlist che abbiamo chiamato stagioni, sarà perché qui ci sono tanti partiti di telefilm e ciascuna stagione è dedicata a un filone che ci sta particolarmente a cuore, quindi abbiamo strumenti di responsabilità sociale, relazione, comunicazione ambientale, comunicazione innovazione, il fenomeno NIMBY. A queste playlist abbiamo anche affiancato la serie Lo sapevi che sono video di 60-90 secondi in cui mettiamo in evidenza fatti rilevanti, tratti dall'attualità che pensiamo possano interessare a chi come noi è fortemente interessato, direi anche ispirato, influenzato, immerso nel tema dello sviluppo sostenibile. Buona visione e teniamoci in contatto!